Il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati Giulio Tremonti, tra i protagonisti della prima delle due giornate dell'Abruzzo Economy Summit all'Aurum di Pescara, un evento organizzato anche quest'anno dalla Regione Abruzzo e da Mirus con il direttore Carmine Perantuono e la collega Diego Martelli. Abbiamo seguito l'intera giornata, le conclusioni del ministro Urso si sono soffermate soprattutto sulla crescita dell'economia italiana. L'Abruzzo è al quarto posto nella classifica nazionale, crescita del 13,6% che fa ben sperare, ma l'attenzione come si attendeva è stata puntata soprattutto sul settore dell'automotive. L'ex Sevel di Atessa, la cassa integrazione fino al 31 ottobre, una notizia che preoccupa fortemente il mondo economico, politico e produttivo abruzzese e il ministro ha fornito rassicurazioni, ma su questo abbiamo ascoltato anche il presidente Tremonti. Le decisioni che saranno assunte nei prossimi mesi dalla nuova Commissione indirizzeranno in maniera decisiva il mercato dell'auto. L'Italia sta svolgendo un ruolo da protagonista, così come è avvenuto su tutti i principali tavoli, nella regolamentazione europea per renderla sostenibile. E prosegue unitamente al presidente della regione Marsilio e con le partecipazioni degli organizzazioni sindacali il confronto Costellantis con il nostro produttore nazionale. Atessa è da sempre un'eccellenza anche tra gli stabilimenti italiani. L'impresa ne ha in più occasioni confermato la centralità, lo ha fatto nel confronto col presidente della regione, lo ha fatto anche nei tavoli nazionali. Ma il recente ricorso agli ammortizzatori sociali è un segnale da non sottovalutare nel confronto con l'azienda, in controtendenza con quello che aveva sostenuto, che ha sostenuto nei tavoli nazionali e nel confronto con la regione. Dobbiamo essere insieme assertivi per modificare il percorso del Green Deal a livello europeo e per impegnare l'azienda negli investimenti, nello sviluppo nel nostro paese e per quanto riguarda i veicoli commerciali nella vostra regione. Analogo impegno il Ministero lo sta assicurando sugli altri tavoli di crisi che riguardano la regione. Denso della filiera automotivi, El Foundry sui semiconduttori e Vibac per la produzione in assi e prodotti adesivi. Siamo impegnati perché vi siano sempre soluzioni positive. La crisi dell'automotive si può invertire? La Germania sul diesel si è suicidata, prima con i trucchi, adesso chiudendo fabbriche. Sono scelte che non puoi fare in base all'ideologia, devi considerare anche tante cose, il lavoro, gli investimenti, l'economia dell'auto è fondamentale.